Buongiorno a tutti, sono Antonio Rizzo di Xplat. Xplat è una piattaforma di ricerca che è stata fondata in Sicilia, a Caltagirone, in provincia di Catania nel 2010. Xplat si occupa di temi e questioni diverse che sono stati affrontati in momenti diversi in questi anni. Sono molto contento di essere qui e sono molto contento di presentare il lavoro oggi perché ho rimesso un po' le mani sulle cose che volevo farvi vedere ieri. Perché la discussione che c'è stata ieri è stata veramente importante per adesso spostare l'attenzione su due progetti di ricerca che abbiamo avviato in questi anni. Il primo più remoto è Incompiuto Siciliano, un progetto più recente invece si chiama Teatri Abitanti, ne parleremo dopo. Vi presento Incompiuto Siciliano. Incompiuto Siciliano è un progetto avviato insieme ad Alterazioni Video nel 2010. Ci avevano invitati a un workshop a Giarre, che è la capitale dell'incompiuto, con nove opere incompiute, per lavorare a un piano per un parco archeologico dell'incompiuto. Giarre non è l'unico caso in Sicilia, evidentemente, di opere di città che ospitano incompiuti. In Sicilia sono solo 105. Non vi faccio vedere questo progetto perché non mi sembra utile. Abbiamo continuato però a lavorare sull'incompiuto, abbiamo scoperto che in Italia c'erano allora, ne avevamo scoperte allora, quando la ricerca era appena avviata, quasi 300 opere incompiute. E proprio nel momento in cui stavamo cercando di capire quale potesse essere il futuro delle opere incompiute in Italia, con la manovra Salva Italia nel 2011, nell'articolo 41 bis di una legge 214, si cercava di provare a costruire un piccolo elenco anagrafe delle opere incompiute in Italia. Era il nostro lavoro fondamentalmente, era il nostro tema di ricerca. Iniziamo a lavorare in maniera più intensa alla costruzione dell'anagrafe. Io qui ho riportato la legge e in questa legge si scopre improvvisamente che per opera incompiuta si intende l'opera che non è stata completata per questi motivi, per mancanza di fondi, per cause tecniche, per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge, per fallimento dell'impresa appaltatrice, per mancato interesse al completamento da parte del gestore. E quindi si considera un'opera pubblica incompiuta, un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato, dal relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla collettività. Il Ministero delle Infrastrutture raccoglie i dati sulle opere incompiute, istituisce un gruppo di ricerca che ovviamente non siamo noi, era un gruppo che lavorava dentro gli uffici regionali per stilare questo elenco. Noi non siamo mai riusciti a vedere l'elenco perché non è mai stato fatto da nessun ufficio, ma abbiamo continuato a lavorare sull'elenco e abbiamo scoperto che non sono solo 300 le opere incompiute, ma sono 555, di cui confermate 105 in Sicilia, 27 in Puglia, 52 in Campania, 63 in Calabria, insomma il sud dall'Abruzzo, Lazio in Puglia, anzi dalla Toscana, ha una grandissima quantità di opere incompiute. Delle 105 in Sicilia, 35 sono nella provincia di Catania e come dicevamo prima 9 a Giarre. Abbiamo iniziato a lavorare a documenti diversi che intrecciassero dati raccolti anche da segnalazioni, non solo direttamente da noi, abbiamo scoperto che le prime opere incompiute risalgono alla prima metà degli anni 50 e quelle più recenti fino a prima del 2010. Abbiamo presentato un progetto di ricerca un po' più serio rispetto a quello che ci proponevano a tutti gli uffici ministeriali e questo progetto, che vi farò vedere dopo, è stato presentato appunto al Ministero dello Sviluppo e Infrastrutture e Trasporti, al Ministero dell'Ambiente, all'ANCE, al Consiglio di Nazione degli Architetti e degli Ingegneri, con Vintusti, a Confcommercio, ANCI. Il progetto aveva tre obiettivi, cioè mappare la, ha ancora degli obiettivi, la mappatura delle opere incompiute su tutto il territorio italiano, la classificazione delle opere incompiute e la definizione delle categorie e la costruzione di un piccolo manuale di interventi possibili sulle opere incompiute. Gli strumenti sono gli strumenti fotografici e di disegno e di rilievo che sarebbero poi stati trasformati e restituiti attraverso una mappa digitale, eccetera. Vi faccio qui vedere, forse è poco interessante, però questa è una parte molto lunga del lavoro, sono le schede, una parte del lavoro sulle schede raccolte sulle architetture incompiute in Sicilia. E appunto, scorriamo velocemente, è un palazzetto dello sport a Palagonia, il teatro progettato da Samonà a Sciacca, il mercato dei fiori a Giarre, il palazzo di cemento a Librino a Catania, il campo d'Apolo famosissimo, fotografato anche da Iodice a Giarre, un asilo nido a Palermo, un altro asilo nido, una scuola albergo a Siracusa, un centro polifunzionale comunale a Catania, il teatro nuovo di Giarre, il teatro di Ortigia a Siracusa, il teatro di Librino vicino al palazzo di cemento, un parcheggio a Siracusa, una scuola erice, un'isola ecologica a Catania, una piscina comunale a Licata, una casa per anziani, ci sono tutte architetture, come vedete, anche di un certo fascino, anche di una certa qualità, insomma. Ancora un velodromo a Vittoria, il teatro con un centro polifunzionale a Gibellina di Pietro Consagra, una scuola a Siracusa ancora, una pista di automodellismo a Giarre, un istituto tecnico a Campobello di Licata, un palazzetto dello sport, insomma, la bambinopoli Cico Mendes, nel parco Cico Mendes di Giarre, un centro polifunzionale a Giarre, una piscina olimpionica a Giarre, costruita per le universiadi, che ha le vasche da 49 metri, quindi hanno interrotto i lavori perché erano un metro più, avevano scoperto a un certo punto che erano fuori norma. Insomma, rimettendo un po' insieme queste schede, insieme a quei semplici dati che stanno contenuti dentro a ogni scheda, abbiamo cercato di capire quante categorie di opere incompiute ci sono. Non va più avanti? No. Insomma, abbiamo riconosciuto tre categorie. Le tre categorie sono le opere che non possono più essere completate, le opere che possono essere completate non rispettando la destinazione d'uso originaria e le opere che possono essere completate rispettando la destinazione d'uso originaria. Chiaramente queste categorie riflettono una condizione normativa un po' complessa. Per esempio, il primo caso, le opere che non possono più essere completate, non possono essere più completate per quei vincoli o per quei problemi di cui abbiamo parlato prima. Le opere che possono essere completate non rispettando la destinazione d'uso originaria sarebbero fuori legge, perché c'è una normativa che stabilisce che un edificio incompiuto non può accedere ad alcuna forma di finanziamento, né pubblica né privata, per essere completato fuori dalla sua destinazione d'uso. Vi faccio un esempio. Un ospedale degli anni 50 può essere completato intanto solo se si trovano i finanziamenti per completarlo e diventerà un ospedale, che è una cosa un po' assurda. Non succederà mai. Il campo d'Apolo a Giarre, per esempio, che rientra in questi casi, non potrà essere più completato. Adesso vi faccio vedere. Abbiamo sulla scorta di questi dati e di queste indicazioni abbiamo provato a costruire un piccolo manuale di intervento in cui ognuna di queste categorie aveva come un po' una soluzione di progetto e il progetto sarebbe stato l'unico strumento, l'unico mezzo di confronto con le amministrazioni rispetto al futuro di queste opere. Questa è un'immagine della Bambinopoli lì nel parco Cicomendes. Attraverso un sopralluogo del lancio abbiamo scoperto che l'opera non può essere completata perché le strutture sono molto ammalorate e non ha alcun senso ricostruirla o comunque completarla. Abbiamo pensato che per questo... Ovviamente questa è la sintesi di un po' queste categorie. Abbiamo pensato che l'unico tipo di intervento per questo tipo di opere che stanno in un parco pubblico e quindi in cui la sicurezza deve essere molto alta visto che nessuno può demolirla perché anche la demolizione ha un costo. Abbiamo pensato appunto che una linea guida per questo tipo di opere potesse essere quella di impacchettarle dentro le reti che si usano per i progetti di ingegneria geotecnica per la messa in sicurezza di pareti friabili o di diverso tipo e visto che l'edificio si trova all'ingresso del parco anch'esso incompiuto perché non ci sono giochi per bambini innestare dentro una parete filtro uno spazio per giocare. All'interno della rete l'indicazione è quella di lavorare con un progetto di esplosione di semi per alimentare la crescita delle piante selezionate tra quelle autottone e che nel giro di pochi anni con le loro radici aumentano accelerano il processo di implosione del calcestruzzo. Il palazzo di cemento a Catania fa parte della seconda categoria cioè di quegli edifici che possono essere utilizzati e completati secondo la loro tipologia. Anche qui abbiamo fatto un sopralluogo con i periti del lancio l'edificio strutturalmente è in ottimo stato e la possibilità che ha questo edificio come uso temporaneo è quella di riattivare il piano zero il piano primo e il piano delle terrazze mettendo in funzione il vano ascensore che è completo e riutilizzare il piano terra come spazio per il quartiere e questo spazio filtro come un campo. Il terzo progetto rientra tra quelle opere che non possono essere più completate perché la normativa non lo consente nonostante le strutture e la qualità generale dell'opera sono in buono stato. Qui si lavora con un processo di riparazione anche questo è un edificio che ha un carattere molto forte una forza espressiva molto forte molto interessante è uno spazio che è utilizzato adesso informalmente da piccole associazioni che fanno attività sportive come campo per l'emergenza della protezione civile come mercato comunale eccetera quindi è un luogo non abbandonato ma che ha una grande attività. Qui l'ipotesi è quella di demolire invece solo le parti più deboli quindi tutti i solai per utilizzare la grande copertura che non può più essere utilizzata come copertura perché qui c'è stato un altro problema è stato scoperto che nel progetto delle scale dei gradini per andare dalla parte più bassa a quella più alta sono state invertite le proporzioni alzata pedata quindi si sale per 30 centimetri e si appoggia il piede su 15 centimetri quindi non c'è qui alternativa fondamentalmente la copertura non può più essere utilizzata come spalti allora si usa come grande copertura e demolendo i solai intermedi diventerebbe un grande hangar all'interno del quale attività diverse alimentate da piccoli innesti di micro architetture può diventare uno spazio uno spazio nuovo uno spazio molto più molto più ampio per eventi che già informalmente si svolgono ma chiaramente in condizioni estreme l'abbiamo presentato alle amministrazioni le amministrazioni ci hanno detto ma visto che fate il parco dell'incompiuto fate anche un periscopio così vediamo tutto il parco dell'incompiuto dall'alto abbiamo fatto anche quello ma quegli enti e quelle associazioni di costruttori le associazioni dei comuni non hanno a questo progetto ancora risposto sono passati quasi due anni in attesa visto che ieri ci chiedevamo in attesa cosa si fa abbiamo cercato una condizione più stimolante per avviare dei progetti in un luogo che è in un luogo però sono in realtà molti più luoghi in Italia che da pochissimo tempo sono stati occupati da gruppi diversi per attività culturali questo per esempio è il teatro Valle di Roma che è uno spazio molto bello un vecchio teatro forse il più antico di Roma che dopo un incendio a fine del Settecento è stato ricostruito dal Valle di agli inizi dell'Ottocento è ancora così insomma in ottimo stato è uno spazio molto interessante è uno spazio all'italiana è un teatro all'italiana che ha una forma molto molto precisa e abbiamo conosciuto gli occupanti in un'occasione abbiamo organizzato insieme a loro un workshop e abbiamo scoperto con loro che il 31 maggio del 2010 un decreto legge il numero 78 stabilisce delle misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica che sopprime l'ente teatrale italiana a cui era affidata la gestione del teatro c'è questa attenzione perché è un'altra cosa assurda in seguito alla chiusura e alla dismissione dell'ente il 19 maggio del 2011 chiude viene avviata una proposta di affidamento alla gestione del teatro attraverso un bando di gara europeo il 14 giugno 2011 e nello stesso momento avviene un'occupazione per protesta da parte dei lavoratori dello spettacolo di tutta la città e di tutta Italia fondamentalmente e questi sono attori danzatori tecnici del teatro operatori registi insomma che con il loro lavoro e con l'aiuto di anche grandi personalità dello spettacolo in Italia hanno lavorato un progetto di teatro pubblico riconosciuto e tutelato come bene comune che era un'altra cosa di cui si parlava ieri hanno iniziato a lavorare con i due giuristi insomma a cui si faceva riferimento ieri Mattei e Rodotà per la creazione di questa forma giuridica avanzata pubblica che funziona come un modello che si può virale che si può riprodurre e che reinventi una nuova politica di gestione e produzione culturale dal basso che è un po' quello che mi sa che stiamo cercando di fare questo seme questo germe questo virus dell'occupazione nei mesi successivi ha contagiato tutta l'Italia e la rete degli spazi dedicati ai beni comuni in cui attività per lo spettacolo si facevano prima e si continuano a fare in maniera più intensa e che sono stati un po' alimentati da questa nuova condizione dell'occupazione sono Macau a Milano a Venezia Teatro Marinoni e Saledox il Teatro Aperto di Pisa insomma il nuovo Cinema Palazzo di Roma e in Sicilia il Teatro Garibaldi e il Teatro Coppola questa è la mappa dei teatri in Italia occupati noi abbiamo fatto una piccola esperienza di un workshop di una settimana che abbiamo chiamato Residenza di Progetto perché abbiamo vissuto noi di Xplat insieme a 50 studenti che arrivano da tutta Italia abbiamo lavorato a una residenza di progetto vivevamo lì lavoravamo lavoravamo con loro avevamo tutto il tempo disponibile per apprezzare questa nuova condizione di vita all'interno di un luogo occupato e abbiamo riletto attraverso i nostri strumenti quelli più semplici dei questionari o del fotografico del disegno delle condizioni nuove che si sono attivate nel teatro il teatro valle è uno spazio come si vedeva da quel disegno prima non ci ritorniamo perché è un teatro all'italiana che ha una forma tipologica molto precisa e non ha il foyer cioè il foyer è stato ottenuto agli inizi del Novecento da parte sottratto a una parte bassa di Palazzo Capranica che è il palazzo accanto e questo spazio è stato utilizzato lo è ancora utilizzato dagli occupanti per fare qualsiasi tipo di attività cioè questo momento di lavoro in cui noi lavoravamo ma loro attraversavano mangiavano avevano proprio qui dietro le cuscine facevano gli incontri le commissioni paritetiche le conferenze eccetera gli incontri con gli artisti e gli abbiamo fatto scoprire una cosa interessante che lo spazio lo spazio dietro è uno spazio molto grande un grande cortile in cui altre attività all'aperto potevano essere fatte che era quello che in realtà loro volevano fare anche perché hanno un densissimo programma di attività in cui spesso si sovrappongono e quindi confrontando anche qui attraverso il nostro lavoro l'interno e l'esterno abbiamo scoperto che dall'ente teatrale era stata coperta una parte degli affacci costituiti da porte e finestre un po' questo ci ha spinto insieme a loro a ripensare questo spazio interstiziale questa superficie che in realtà ha aperto una grande possibilità un'altra soluzione che è stata sperimentata insieme a loro quindi sul campo questo dispositivo che chiude e costruisce delle piccole stanze insonorizzate all'interno del foyer e la cosa più interessante secondo noi è che in questo spazio si vive cioè teatri abitanti perché gli occupanti vivono gli occupanti vivono gli ultimi arrivati chiaramente all'interno dei palchetti cioè sono riusciti con pochissimo a trasformare lo spazio dei palchetti in uno spazio reversibile dalla notte al giorno riescono con un dispositivo anche semplice che poi sono tende molto grezze a cambiarne la destinazione e su questa linea noi abbiamo lavorato per costruire un piccolo dispositivo un po' più sofisticato che abbiamo realizzato insieme agli scenografi che lavorano dentro il teatro ed è una sono due bastoni ricoperti da una tenda che si portano la sera e si rismontano la mattina qui vediamo il video vediamo uno stop motion ecco ecco chiaramente dopo la residenza di progetto abbiamo continuato anche qui a lavorare per un certo periodo finché la fondazione non è stata istituita è stata istituita a maggio giugno credo di quest'anno e abbiamo in questo ultimo anno lavorato sui progetti a breve termine che sono stati costruiti avviati in parte durante la residenza di progetto e che sono stati tutti realizzati all'interno dell'anno e dei progetti invece a lungo termine che si dovrebbero attivare dopo la messa a sistema della fondazione e questi sono i progetti realizzati c'è un nuovo sipario un palco modulare che sta sulle sedute che è l'ultimo in corso di realizzazione l'apertura di quella parte che vedevamo prima del foyer verso il cortile per fare le attività all'aperto questi moduli abitativi sono stati attivati tutti un progetto per il foyer di nuove tende diverse da quelle che avevamo sperimentato e il teatro in strada e questo spazio coperto per fare le attività esterne il progetto a lungo termine invece prevede una foresteria alcuni laboratori sperimentali i magazzini e la biblioteca eccetera ecco qui invece in una visione unica cioè in una sezione vediamo appunto gli interventi a breve termine quelli già realizzati nel giro di un anno una cosa formidabile e quelli di cui siamo molto contenti invece quelli che si dovrebbero attivare in blu ecco magenta e ciano ecco quindi a me interessa adesso capire se veramente possiamo continuare a lavorare osservando questi questi processi di contaminazione di contagio oppure dobbiamo rimanerne fuori perché chiaramente questo tipo di lavoro è stato fatto borderline cioè qui non c'è nessuna autorizzazione per fare per fare tutto questo che chiaramente non si poteva ottenere però cioè questa è una domanda cioè adesso questi due progetti sono utili secondo me per per farci una domanda sono due progetti estremi perché anche rispetto ai temi di cui ci stiamo occupando e con cui stiamo lavorando per esempio l'incompiuto cioè il tema dell'incompiuto sinteticamente è il grado zero cioè se l'abbandono è il grado uno l'incompiuto è il grado zero perché non è non è stato abbandonato perché non è mai stato usato e quindi e quindi non è abbandonato e e non si può pensare di riutilizzarlo perché non è mai stato usato non essendo stato mai completato e quindi è un altro livello e questi spazi invece questi spazi dell'occupazione che in parte siamo riusciti a a diventare un po' i protagonisti delle trasformazioni sono degli spazi iper utilizzati in cui il riuso quasi non serve ma che abbiamo visto e che mi faceva piacere farvi vedere per capire qual è la dinamica informale che alimenta questo tipo di usi e questo tipo di visioni grazie bene allora io continuerei con la Sicilia con un pezzo di Sicilia e quindi c'è Luigi Greco di Rudere salve a tutti però non funziona funziona? sì no mi chiedevo se funzionasse il microfono ok ok salve a tutti sono Luigi e lavoro con Rudere Project che è un collettivo di come si fa non risponde intanto vi spiego è un collettivo di artisti architetti e ci occupiamo di organizzare eventi culturali in posti abbandonati la base di tutto siamo nati diciamo da Grigento abbiamo fatto il primo progetto a febbraio e da lì è stata un po' un susseguirsi di interventi un po' come tutti visto che c'è questo bello spaccato dell'Italia vi faccio vedere qualche cartolina da Grigento che è una città estremamente degradata nel suo centro storico è un po' questa condizione di estremo disagio considerando che è proprio negli ultimi posti fra le classifiche delle città d'Italia è la più invivibile tutti vanno in macchina la gente vive in palazzi come questi da queste estrema condizioni di disagio è nata un po' la necessità di creare rudere project di volere lavorare con il disagio un po' sovvertendo degli schemi abbiamo questo grossissimo problema dei crolli perché tutto è costruito in tufo arenario quindi spesso soprattutto in questa stagione d'autunno quando iniziano le piogge la terra i costoni rocciosi assorbono l'acqua che poi quando evapora crea queste bolle all'interno del terreno oppure rovina le fondazioni così come le pareti e le case crollano questi sono degli interni di una casa a Favara che è in provincia di Agrigento è tutto un isolato che è rimasto chiuso al pubblico dopo che c'è stato un crollo e sono morte delle bambine nel 2010 da quel momento si è iniziata proprio questa pratica di recintare i centri storici creare delle zone rosse e recintarli con dei muri che spessissimo sono violati perché parti del centro storico sono ancora abitate soprattutto da immigrati e quindi ci sono delle situazioni estremamente estremamente pericolose siamo partiti dai ruderi perché siamo tutti quanti amanti dello spazio pubblico io sono un urbanista altri sono architetti altri artisti altri ragazzi infatti come vi faccio vedere qui provengono dal mondo della street art dell'illustrazione quindi la strada era la nostra base però se le case crollano le strade sono disabitate e comunque abbiamo capito che il nostro punto di partenza doveva essere una dimensione più privata e quindi partendo proprio dalle case abbandonate il nostro motto dall'inizio proprio dal primo manifesto con cui abbiamo sponsorizzato e pubblicizzato il nostro primo intervento è se possiedi un rudere e adesso sai cosa farne contattaci da quel momento le nostre email sono sempre piene di gente che ci propone un rudere perché la Sicilia il sud d'Italia in generale il problema dell'abbandono genera una polverizzazione appunto della proprietà quindi spessissimo ci sono proprietari che hanno due tre case in centro storico però le lasciano disabitate quindi per noi è anche una necessità quella di trovare e creare un mercato con cui poter lavorare e in questo momento siamo un'associazione culturale perché in Italia è la cosa più economica da fare se vuoi iniziare un'impresa però la nostra idea è proprio quella di lavorare con questo genere di situazioni di degrado estremo e farne diventare un lavoro per poterne cambiare le cose credo moltissimo nell'associazionismo ma credo anche nella possibilità di fare impresa con determinate situazioni quindi noi entriamo nelle case che spesso sono senza energia elettrica senza impianto se il vicino ci passa soprattutto nei primi interventi o negli interventi che facciamo in modo del tutto autofinanziato e auto-organizzato se i vicini ci passano la luce è ok se no facciamo proprio dei percorsi espositivi facendo girare le persone con le torce all'interno e la situazione di più o meno di agibilità parziale dell'edificio è utilizzata in modo molto creativo nel senso che creiamo delle messe in sicurezza ed evitiamo di far entrare in certe sale però tutto quello che è chiuso al pubblico è comunque amplificato nel suo aspetto più poetico da installazioni site specific abbiamo iniziato a chiamare una rete di artisti soprattutto siciliani per fare delle installazioni nelle stanze caso per caso quindi se è una casa privata piuttosto che è un maneggio chiuso piuttosto che è un castello come vi faccio vedere dopo settiamo un tipo diverso di evento culturale spessissimo come sfondo teorico c'è comunque la situazione dell'abbandono del riuso creativo lavoriamo per esempio tanto con il Farm Cultural Park di Favara dove sono questi cortili che dei privati hanno Andrea Bartoli e sua moglie Florinda Saieva hanno rimesso in sesto quindi in questo ci siamo spalleggiati molto perché tantissime persone in questi mesi sono passati giù dalla Sicilia e li abbiamo intercettati nei nostri interventi il lavoro è sempre il più orizzontale possibile quindi entriamo nelle stanze cerchiamo di capire cosa abbiamo a disposizione cosa ci ispira il posto e nascono delle installazioni all'interno come vi dicevo ci sono architetti è nato un po' dalla fusione di due gruppi che è uno detto fatto con cui lavoro io siamo architetti carpentieri un altro è Chrome Surgery sono grafici illustratori che sviluppano tutto il tema della comunicazione della poster art ad esempio negli interventi questa è una stanza di una casa ad agrigento abbiamo chiamato quest'artista Carmelo Nicotra che fa questi ritratti di ultra centenari di Favara sempre sono stati portati anche alla Biennale di Venezia quindi anche nella linea più o meno curatoriale anche se è un po' un azzardo per noi parlare di questa cosa cerchiamo di tenere un motivo molto molto netto questo è un intervento di Loer che è il nostro fantastico grafico e un po' l'idea è stata quella di creare attraverso queste installazioni ed eventi collaterali una una subversione del tema del rudere in certi posti di agrigento in certi posti in certi paesini soprattutto nei centri abbandonati sono frequentati solo da pazzi nerd come noi non è che ci vanno tutti quando le persone entrano in un posto così rimangono allibite rimangono non capiscono più dove dove sono spesso perché le persone si muovono solo in macchina o non hanno tempo per passare a fare una passeggiata in quei posti in generale quindi il nostro obiettivo è quello di lavorare con privati interessati a creare spazi di uso pubblico cioè l'idea di aprire la propria casa sfitta al pubblico quindi chiamandoci per realizzare all'interno delle installazioni e anche la possibilità di avere un potenziale spazio espositivo a disposizione della città quindi se questo dispositivo si moltiplica per 10 20 case nel centro storico diventa comunque una trasformazione che è scalabile quindi dalla casa invade il centro urbano e anche rispetto ai discorsi di ieri secondo me dobbiamo un po' capire anche il luogo in cui ci troviamo ad agire io ad Agrigento ho provato a parlare con l'amministrazione ed è stato ridicolo perché ho solo perso tempo solo prodotto materiale progetti che che poi non 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 sanno andate in porta in questo momento non ci sentiamo assolutamente di poter perdere tempo e quindi per questo vogliamo lavorare con i privati e cerchiamo di stimolare anche il loro desiderio quindi secondo me una persona molto abbiente si compra una macchina perché il 70% della pubblicità che passa in televisione sono macchine quindi in un certo senso dobbiamo anche noi cercare di lavorare con media diversi per per creare un nuovo desiderio quindi per questo ci siamo anche stiamo stiamo anche cercando di proporci un po' come agenzie delle agenzie immobiliari nel senso se un agente immobiliare fa entrare dieci possibili acquirenti dentro una casa noi possiamo organizzarci delle feste e farci entrare tantissime persone che poi ci possono essere degli acquirenti o meno è un rischio che possiamo prenderci noi come imprenditori nel senso fare un po' di questo un appunto imprenditoria e quello che succede anche questa visione è forse un po' magari storcere del naso però secondo me per quello che succede giù i centri storici o si riprendono perché appunto le persone viene voglia di ritornare in centro storico o se no rimangono così e crollano per sempre e basta un'altra cosa che mi sento di dover ragionare qui con tutti voi comunque anche a livello nazionale si dovrebbe ragionare è quello dell'attivismo urbano perché tantissime cose le facciamo per passione e per desiderio di immortalità però spesso è faticosissimo ed è una cosa che non è nemmeno contemplata nella nella legislazione anche come possibilità di sfruttare tutte le energie che io come attivatore posso generare in un quartiere questo è un intervento che abbiamo fatto a Rosarno per il festival della rigenerazione urbana di questo settembre ed era una piazzetta in Vico Italia si chiamava quindi l'abbiamo scelta sia perché era rappresentativa sia perché era in uno stato di degrado totale perché era morta lì vicino una ragazza africana incinta di tubercolosi ed era diventato praticamente un posto degradatissimo che nessuno nemmeno come discarica proprio nessuno ci voleva andare quindi abbiamo deciso di riaprirlo di fare questo intervento in 72 ore in tre giorni in quel momento il festival della rigenerazione urbana proprio in settembre ne abbiamo fatti due uno a Mazzara e uno a Rosarno sono dei momenti bellissimi in cui appunto le energie di attivatori urbani di attivisti urbani si concentrano ci sono gli artisti ci sono gli architetti ci sono i costruttori e a livello proprio pensandolo in termini economici è tantissima energia che può essere convogliata in modi interessantissimi nello spazio urbano e in quel momento si possono coinvolgere i cittadini ad attivarsi a fare delle cose abbiamo coinvolto i ragazzi africani a fare dei murales un po' nei ruderi che rimanevano poi tra parentesi Rosarno è una situazione veramente disastrosa io non avevo mai visto nulla del genere cioè fanno le case senza pilastri usano i foratini come c'è una cosa veramente terribile che vi invito a vedere e comunque il festival punta il riflettore su un disagio e appunto come interventi l'intervento temporaneo secondo me al di là dell'evento al di là di quanto può essere più o meno divertente ha il principale obiettivo di puntare il riflettore su un disagio in quei giorni l'amministrazione ci vedeva lavorare portavano gli operai riaccendevano una luce riaprivano una porta sono piccoli gesti che comunque portano la rigenerazione urbana anche per noi dirudere riaprire un portone che è chiuso da anni è un po' un modo per sfondare un muro di di scusa non mi viene la parola di indifferenza questo ad esempio è anche sistemare un portone perché migliorare ridipingere cose ovviamente sono dei micro interventi molto molto simbolici questa è la casa che abbiamo adottato ed è a Favara e abbiamo fatto una serie di eventi per finanziare passo dopo passo diverse installazioni all'esterno poi abbiamo scoperto che ci sono le fondazioni con delle lesioni a 45 gradi pazzesche quindi per il momento è un secondo stand by però abbiamo fatto tre eventi abbiamo iniziato a ripulire tutto a creare gli allestimenti è diventato tutta la piazza davanti è diventato un momento sia di creatività abbiamo coinvolto tantissimi artisti ed è stato il momento di primavera a giugno quando anche la farm faceva in continuazione delle inaugurazioni è stato molto molto bello e volevo sottoporvi qui il nostro work in progress che è la cosa un po' più grande che abbiamo per le mani adesso ed è il castello di Cusago e dite come siete arrivati a Milano è una società che si chiama Nateo che è di origine siciliana che vivono a Cusago da tantissimi anni hanno visto i nostri lavori giù hanno detto l'unico rudere che abbiamo a Cusago che è tipo il terzo comune più ricco d'Italia e il castello è un castello immenso visconteo è per il 98% inagibile però ha questi 6.000 metri quadri di verde liberi e agibili quindi il verde ovviamente sono gli spazi agibili e allontanando facendo un offset dalle mura di 8 metri abbiamo tantissimo spazio a disposizione il portico che sono quasi 250 metri quadri e le cantine come spazi sicuri è una proprietà privata che sta molto a cuore al comune a tutti i cittadini considerate che è un rudere proprio devastato nella facciata però ci fanno ancora le locandine degli eventi del paese le torte di compleanno è proprio un l'hanno acquistato degli imprenditori per evitare che finisse in mano ai cinesi che volevano fare la sala ricevimenti i russi che ci vogliono fare un'altra cosa sono stati spinti molto da spirito di proprio cittadino quindi noi ci stiamo in questo momento relazionando sia con loro sia con questa società Nateo che ha ottenuto il comodato d'uso per 12 mesi e che si occupa di tutte le infrastrutture stabili quindi hanno messo l'elettricità rimetteranno i bagni e tutto il resto e noi curiamo la direzione artistica il progetto degli allestimenti e l'attivazione ci siamo messi anima e corpo con questo in questo progetto sia perché è molto grande sia perché è il nostro primo grande progetto sia perché vogliamo renderlo un po' il progetto pilota per lavorare in ruderi di questo genere per il progetto dello spazio pubblico dello spazio verde abbiamo chiamato Fabien David che è un paesaggista che insegna la scuola di Versailles con cui ho lavorato tre anni fa che collabora con Gil Clemont e che lavora quindi con questo tema della vegetazione spontanea e questo è un po' il concept che abbiamo sviluppato e sono delle passerelle che attraversano questa vegetazione che lasceremo alta e che implementeremo con piante infestanti tipo alianto strovi cose di questo genere che porta delle piattaforme sicure quindi abbiamo potenzialmente la possibilità di aprire uno spazio pubblico cioè uno spazio privato appunto ad uso pubblico sicuro all'interno di un rudere quello che facciamo noi è la progettazione appunto di infrastrutture minime è un progetto che ha già iniziato e che passo passo aprirà sempre diverse aree del castello a marzo a fine febbraio inizieremo la costruzione vera e propria di tutto il parco e in primavera vogliamo aprire abbiamo chiamato questo progetto TAC che sta per Temporary Activation Kusago Castle ogni spazio è bellissimo come nome immaginate che ognuno di questi quadrati sarà assegnato a un collettivo di architetti o di artisti e le stanze interne agibili o non agibili saranno affidate ad artisti che chiameremo di volta in volta a creare delle installazioni site specific anche solo per fotografarle quindi abbiamo iniziato a costruire delle scale delle panche delle sedie faremo dei forni in terra cruda dei sistemi per la raccolta delle acque piantumazione certe cose le abbiamo iniziate già a costruire perché dei piccoli eventi sono iniziati già ci sono stati già quindi è anche un modo per iniziare a generare capitale che serve per riprendere questo investimento e stiamo cercando di sparare nel mondo un'immagine del castello un po' nello stile rudere quindi tentando di attirare l'attenzione sia di artisti per esempio questa è una sala in cui abbiamo già pensato a una mega installazione è che praticamente è questa di qui è questa di qui quindi qui c'è un arco le persone arrivano sono protette comunque dall'arco e possono vedere questa installazione sempre proprio nello stile c'è una perizia statica che dice che le murature sono in ottimo stato e l'unico problema sono ovviamente i tetti di legno che sono tutti rotti questa è un'immagine della conferenza stampa che abbiamo fatto a settembre questo è vedete il maniero ed è questo parco che è veramente grandissimo e questi sono i lavori che fanno i nostri grafici e stiamo preparando il sito e tutto il resto presto lo vedrete e questo è un evento che abbiamo fatto per la festa di Halloween abbiamo fatto entrare tutti i ragazzi quindi mentre lavoravamo le persone vedevano la porta socchiusa di questo posto che è chiuso da 30 anni e che sono curiosissimi quindi dai generazioni più grandi che ci vivevano prima perché era un condominio praticamente diventato a quelli più piccoli che entrano strabiliati dal posto e questo è una pagina facebook è un sito che adesso è in costruzione e che sarà lanciato nei prossimi giorni e questi invece sono i nostri contatti condividete il nostro lavoro perché vogliamo prendere un po' in piede grazie Daniele Calvani di Impossible Living Milano Allora scusate ma non avevamo preparato facciamo apriamo a aprirla di qua Allora un po' come ce ne avevamo detti con Alessandro l'altro giorno visto che ormai ci conosciamo tutti più o meno quasi ho pensato di non fare una presentazione normale dicendo raccontando la solita pardella di cos'è Impossible Living ma diciamo di fare di usare un punto di vista l'unico che posso usare il mio cioè quello di raccontarvi come si finisce a fare una cosa come Impossible Living e perché Impossible Living è una startup web che è nata nel gennaio del 2011 in verità è nata a novembre del 2010 però abbiamo creato il blog diciamo dandogli un po' di visibilità a gennaio ed è diventata un SRL un'impresa ad aprile del 2013 ci sono fondamentalmente tre fattori perché si è sono arrivata a fare una cosa come Impossible Living insieme al mio socio che sono che si ripetono diciamo a fasi cicliche essere fortunati noi siamo qui oggi perché siamo un'elite non c'è niente da fare siamo una cavolo di elite abbiamo studiato c'è chi è andata all'estero c'è chi ha fatto dei master c'è chi ha fatto il dottorato vedi la poli c'è chi eccetera eccetera se siamo qui oggi e non siamo a lavorare in miniera è perché siamo un'elite punto numero uno il punto numero due è siamo curiosi la curiosità porta purtroppo per fortuna una grande considerazione siamo disagiati cioè io personalmente non mi sono mai rispecchiata nella figura normale dell'architetto e ho sempre provato un terrificante disagio soprattutto quando mi sono laureata a dire ma io non voglio andare a fare i disegnini e le case e diventare non so fare lo studio con i 50 magari dipendenti per disegnare le case non mi sono mai ritrovata in questa cosa e questo mi ha sempre portato a essere curiosa e a dire ma cosa ci può essere posso trovare un altro modo e l'ultima cosa che è quella più faticosa è il fatto che ciclicamente dobbiamo farci sempre un gran mazzo cioè comunque essere qua prendere spostarci viaggiare girare studiare ricercare cioè non è una cosa che sta davanti alla televisione sul divano cioè comunque dobbiamo faticare per fare questa cosa quindi diciamo che tutto il percorso che è arrivato a creare l'impresa in possible living ogni tot tocca questi punti vi faccio un esempio io ho 31 anni sono architetto sono laureata a Ferrara nel 2006 ho avuto la fortuna quindi di poter studiare e di poter andare in Danimarca per un anno a fare l'Erasmus con un grande sbattimento e la curiosità di vedere all'estero cosa c'era dopodiché lavorandomi nel 2006 ho lavorato per un piccolo periodo in vari studi a Imola perché io sono di Imola anche se adesso vivo a Milano e dopo un po' ho detto che palle voglio andare all'estero di nuovo allora sono andata a Vienna ho lavorato per uno studio di Wolfgang Rheinberg che è uno dei più diciamo ventennali architetti sulla sostenibilità legati ad ANAB legati molto anche al territorio diciamo italiano e quindi sono stata un anno all'estero per studiare dopodiché visto che non mi bastava più fare la libera diciamo fare la dipendente in uno studio ho deciso di tornare in Italia per fare la libera professione perché l'unico modo per aprire uno studio personale difficile se sei a Vienna non sai il tedesco e quindi l'unico modo era torno in Italia mi incontro con i miei amici architetti facciamo tutti insieme un bello studio e portiamo avanti la professione così ho fatto sono tornata insieme a altri quattro architetti a Imola abbiamo creato uno studio di architettura dove si generalmente si lavorava sull'architettura sostenibile scuole sostenibili case piccole ristrutturazioni eccetera eccetera cosa succede? TUM ritorna la fortuna per caso mi incontro un giorno a Milano con il mio socio attuale che si chiama Andrea Sesta che è un ingegnere informatico e già uno dice cazzo un architetto che lavora con un ingegnere c'è qualcosa che no? di solito sono non so erano dieci anni che lavoravo solo con degli altri architetti e qui invece ci cambia qualcosa e la grandissima fortuna è quella di incontrare una persona che è molto simile a te ma ha completamente un altro punto di vista quindi per cui tutte le mancanze che io avevo venivano saturate molto spesso da una sua visione o comunque da una sua professionalità per caso iniziamo a parlare di edifici abbandonati a casa sua in una giornata di co-working a Milano e dopo un po' iniziamo a a parlare di ma che cosa si può fare per risolvere questo problema sul tema degli edifici abbandonati quanti sono dove sono insomma abbiamo iniziato questa chiacchierata che ha portato fino ad oggi che è Impossible Living diciamo che alla fine è un po' il succo di tutte queste tre cose Impossible Living la fortuna il fatto di essere comunque curiosi di riuscire a tentare a capire cos'è questo nuovo mondo perché anche se io sono architetto non mi ero mai interessata a questi numeri per esempio sul tema del quanti sono questi edifici dove sono e ovviamente c'è sempre la solita l'altro fattore che è bisogna studiare quindi continuare a spendere energia e faticare cos'è successo Impossible Living nasce così facendo la ricerca e cercando di capire dove sono come sono quindi studiando andando su google facendo ricerche in italiano in inglese in spagnolo eccetera e vedendo che cosa succedeva diciamo nel mondo su questo tema e alla fine quello che è venuto fuori è che nel web diciamo che Impossible Living lega questi due mondi il mondo dell'architettura edifici abbandonati e il mondo del web non esisteva nessuno che avesse creato un contenitore una macro scatola che cercasse di trovare una soluzione a questo tema che è globale non so se li conoscete un po' questi numeri tipo Detroit è la capitale dell'abbandono 70.000 edifici abbandonati piccola parentesi oggi li vendono a 500 dollari e c'è un nostro amico che Giacomo e Angela conoscono bene Greg che ha appena comprato una casa Detroit all'asta a 500 dollari c'è una mappatura con tutti i puntini delle case avete presente le case quelle di app del cartone animato ecco quelle lì che vengono vendute a 500 dollari e piano piano da tutto il mondo le persone stanno comprando e chissà cosa verrà fuori da Detroit grosso punto interrogativo ma anche una grossissima sperimentazione e poi insomma il succo è ci sono tantissimi edifici quindi l'idea per noi è stata troviamo cerchiamo di piano piano studiando e facendo ricerca facendo un blog usando il web una soluzione per riuscire a risolvere questo problema quindi cosa succede ci inventiamo praticamente un servizio in crowdsource cioè un wikipedia dell'abbandono dove tutte le persone con la loro energia possono mappare gli edifici abbandonati in tutto il mondo e segnalare una mappa globale dove sono girando per la strada ovviamente voi non fare un'applicazione per iphone ovvio facciamo un'applicazione per iphone questa è stata completamente sviluppata da Andrea la fortuna di appunto di non lavorare con degli architetti ma di lavorare con gente che non fa il tuo lavoro è che noi non abbiamo speso una lira per fare questa applicazione perché Andrea l'ha sviluppata si gira per la città si mappa gli edifici si contribuisce e si fa crescere quindi il primo punto è cerchiamo di dire di dare informazioni dove sono i vari ruderi dove sono i vari edifici a Roma a Bologna a Milano a Pallermo eccetera ma qua ormai sappiamo tutti cosa succede si genera una scheda una scheda fatta appunto in questo caso da associazione no fatta sia estetica e riattivata l'associazione agile dove ci sono tutte le varie informazioni e chi vuole può aggiungere informazione alle informazioni andare a crescere sempre più diciamo il wikipedia e l'abbandono e il secondo punto è stato va bene una volta che abbiamo sti cavolo di edifici abbandonati ma che ce ne famo no? e quindi un po' come raccontava prima anche Luigi con Ruder l'idea è quella di innescare sopra questi edifici e meccanismi dove come macro tema abbiamo pensato che possa cioè l'idea generare era cercare di creare delle community sopra questi singoli edifici per innescare dei meccanismi dei processi un po' come diceva anche Bex anche Giacomo l'altro giorno non è importante cioè l'importanza oggi è quella di cercare di creare dei processi no? dei processi che poi prenderanno differenti strade in base alle professionalità eccetera però è molto importante visto che oggi tutto è fermo di innescare questi processi cosa è successo? per noi l'idea finale generale siamo una diciamo una start up web globale perché la mappatura è in tutto il mondo era quello di riuscire a dare un servizio per tutte quelle persone che come i reattivatori vogliono far innescare sul proprio edificio nel proprio territorio un processo sull'edificio abbandonato e innescare tutte quelle attenzioni che possono essere pubblica amministrazione gli architetti gli imprenditori i proprietari per recuperare o riattivare questa è la parola che di solito usiamo noi l'edificio abbandonato cosa consiste appunto la reattivazione la reattivazione è quel gesto che anche se non sono il proprietario anche se non ho dei soldi anche se non sono un architetto posso fare posso fare addirittura da fuori noi abbiamo vari esempi di reattivazione che abbiamo fatto a costo zero un flash mob davanti alla casa degli artisti di Brera a Milano durante il salone abbiamo fatto quest'anno e magari dopo vi faccio vedere il video la reattivazione di un altro edificio a Milano per quattro giorni questa volta datoci dal comune quindi entrando dentro l'edificio e abbiamo iniziato a mappare tutti i riattivatori in Italia e qua appunto siete tanti di cui abbiamo una lista di 60 e innescato su questi 60 riattivatori italiani tra cui voi 15 15 riattivazioni associazione agile un'associazione di Napoli un'altra di Siena eccetera eccetera comunque andate a vedere su live che ci sono per fare un esempio di riattivazione vi spiego in maniera super veloce ma immagino che tanti di voi sappiano cosa sia per noi la vera forza era portare delle energie all'interno di questo spazio per riattivarlo come si fa a portare dell'energia all'interno dello spazio per riattivarlo ci siamo inventati una call for ideas chiedendo a start up maker e designer di darci un'idea Luigi loro hanno portato per esempio una fantastica la chiamerei anche rainbow machine chi ha portato diciamo il progetto su Bologna con ciclostile chi ha portato le stampanti 3D per far vedere chi ha portato eccetera eccetera e con tutte le energie di progetti super fighi si è riattivato questo edificio per quattro giorni questo è un po' quello che è successo all'interno potrei magari alla fine vi faccio vedere se volete il video anzi ve lo faccio vedere subito così facciamo un po' di stop ed è solo per noi questo è un esempio cioè far capire che se abbiamo se noi abbiamo fatto abbiamo potuto fare a costo zero perché questo evento che abbiamo fatto ha costato 12.000 euro e abbiamo tirato su 12.000 euro vuol dire che si può iniziare a innescare un meccanismo come appunto fatto in tanti all'interno sugli edifici abbandonati allora audio si sente? te lo senti? grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'interno ci sono delle performance temporane, ci sono state delle conferenze con degli ospiti che hanno raccontato un po' tutto quello che è il tema delle ricci abbandonate, delle reattivazioni nel mondo e tutto quello che sono le innovazioni sociali che stanno succedendo al resto nei giorni nostri. La cosa più importante è quando c'è la costruzione di massività, di giovani, di creativi e di persone che hanno deciso di dare un contributo per cambiare un piccolo pezzo di territorio. Riacquisire una centralità maggiore nei processi di sviluppo della comunità e anche nel fare nuova economia, ecco, deve imparare a gestire meglio iniziative di riattivazione. Riattivare un spazio urbano, riattivare una comunità, creare una massa quantica e creare anche dei nuovi posti di lavoro. Andri. Nei secoli abbiamo visto un movimento che si allontanava sempre di più dalle risorse condivise per andare verso risorse fortemente, invece non condivise per la città. Chi vincerà tra queste due forze storiche non è assolutamente chiaro e sarà molto interessante in questi anni stare guardando. So, we strive to make all these abandoned places, to have a very rich life, and for all interested people to use them in numerous creative ways. Questo era per farvi vedere un po' che cosa è successo, che cosa abbiamo potuto fare. E' stato uno sbattimento enorme, sempre per tornare al tema di prima, c'è stato veramente uno sbattimento enorme dove, se non per dare un esempio, non ci abbiamo guadagnato nulla. Spegniamo. Torniamo in seconda alla presentazione, finisco in dodici secondi. L'idea appunto è quella che alla fine, quando noi siamo nati nel 2010, il tema era veramente di pochi, architetti e probabilmente università e ricercatori. Oggi il tema è diventato una bomba, una bomba e abbiamo iniziato a girare, quindi siamo stati presenti un po' di attività, ne parlano tutti. Tutti vogliono sapere che cosa noi, voi facciamo, siamo stati in giro per l'Italia, adesso qua aggiungeremo anche Bari ovviamente. Siamo stati in giro anche per l'Europa. Una delle cose di cui non abbiamo parlato ieri, ma magari mi piacerebbe parlare con voi, noi siamo stati tre volte tra Bruxelles e Strasburgo al Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa sta tentando di passare delle informazioni al Parlamento per fare nuove leggi a livello europeo. Allora quello che dicevamo ieri è l'amministrazione pubblica non ci caga, è molto difficile, noi abbiamo provato più e più volte a lavorare con l'amministrazione pubblica e dopo due anni abbiamo detto non ce la possiamo fare. Ovviamente la Puglia è un po' speciale sotto questo punto di vista, l'Emilia Romagna dove noi proveniamo e la Lombardia comunque fanno molta fatica, i tempi sono lunghi. Allora la domanda che facevo ieri, un po' provocazione a Claudio, è vogliamo aspettare o vogliamo muoverci prima? Noi abbiamo deciso di muoverci prima, non vogliamo aspettare che facciano la normativa, non vogliamo aspettare che loro ci vengano a chiamare. No, facciamo con le nostre forze. Il tema è anche quello di capire che cosa succede fuori, siamo stati a San Francisco a maggio, abbiamo vinto un bando, un bando che si chiama LLGA, che era le pubbliche amministrazioni del mondo, del mondo, parliamo di Tokyo, città del Messico, Londra, New York, bla bla bla, dicevano e davano, sottoponevano delle problematiche, il pattume, l'edificio abbandonato, eccetera, eccetera. I creativi del mondo davano delle soluzioni, 2500 soluzioni sono state proposte alle diverse pubbliche amministrazioni. Progetto molto interessante, parliamo di pubbliche amministrazioni, in questo caso qui non di privati. La fortuna vuole che un posto di Bolivin sia passato, dai 2005 hanno scelto 100 progetti e 5 per ogni città e noi siamo stati, diciamo, abbiamo risposto alle esigenze di endoveni in Olanda e quindi ci hanno detto, va bene, se volete venire a fare le finali, chi vince si attua il progetto pilota dall'A alla Z che ci avete proposto, nel nostro caso sarebbe stata la mappatura globale della città, sollecitata dai cittadini, l'individuazione insieme a dei tecnici, degli edifici abbandonati, magari strategici, la riattivazione di questi edifici abbandonati grazie alle energie dei cittadini, dei tecnici, eccetera, e una normativa molto più facile e agevole per innescare le future riattivazioni. Non abbiamo vinto, però è stato comunque interessante. Quello che è successo è che, visto che l'evento durava tre giorni, abbiamo detto, stiamo due settimane a San Francisco e vediamo cosa succede nel nostro mondo, cioè quello del web, la Silicon Valley, eccetera. Ed è successo che ci sono tantissimi spunti, cioè comunque siamo stati molto influenzati da questa cosa qui, perché essendo un po' diverso da quello che la maggior parte di voi fa, per noi è fondamentale vivere sul web, cioè noi non siamo un progetto che riattiva gli edifici, no, assolutamente, noi siamo una startup web. Cioè il punto di forza che stiamo tentando di trovare è quello di unire questi due mondi per dare servizi a chi, come voi, fa nel territorio queste attività. La cosa bella di Impossible è che è andata a scuotere tre punti nevralgici, che hanno portato all'esplosione, diciamo, che ci ha dato molta gioia, anche se soldi zero, ma il tema soldi arriva dopo, che è quello della nuova tecnologia, quindi usare il web, quello della partecipazione e collaborazione dei cittadini, quindi, insomma, laboratori al basso, eccetera, e quella dell'end consumption, cioè il fatto del consumo di suolo. Queste tre tematiche fanno sì che, non so, Vita, che è il massimo esperto in innovazione sociale, faccia l'articolo, Wired, eccetera, eccetera. Quindi una grandissima visibilità. Un altro dei temi fondamentali, perché si arriva e come si arriva a fare una startup web come Impossible Living, è fondamentale, cioè il team. Se non avessi incontrato Andrea, che fosse stato dall'altra parte del mio mondo e mi avesse fatto vedere certe cose, Impossible Living non sarebbe mai nata. Ma come se non avessimo trovato partner da cluster theory a ciclo stile, eccetera, non sarebbe mai capitato. Come non sarebbe mai successo se non avessimo incontrato Makecube. Non so se conoscete, Makecube è un incubatore di impresa di Milano, nato da Avanzi, che, diciamo, in cambio di consulenze, uno spazio, eccetera, ha comprato le future quote di Impossible Living. Negli ultimi mesi, una cosa che ci piace molto raccontare, è il team che quasi tutti i giorni lavora con noi. Noi lavoriamo solo con stranieri. Majd è metà palestinese e metà canadese, ed è uno sviluppatore web. Roy è un architetto olandese, che ha 32-35 anni. Moran è un'urbanista che si sta laureando a Politecnica di Milano israeliana. Il fatto di avere sempre questi stimoli diversi, di parlare spesso l'inglese, il fatto di avere la loro visione, il loro punto di vista, che non sono tutti i giorni completamente come noi, infognati in questa cosa, fa sì che arrivino sempre gli stimoli differenti. E quindi è una cosa che almeno tiene viva in Mandria, che sono tre anni che continuiamo a fare questa cosa, che è almeno un'energia un po' diversa dal solito. L'altra cosa fondamentale, sempre per continuare sull'andazzo, è il posto, dove vivere. Cioè noi stiamo in questo spazio di co-working a Milano, enorme, che si chiama Barra, tanti di voi lo conoscono. Ci sono adesso più o meno un centinaio di persone, aziende come architetti, fotografi, start-up, eccetera. E da pochissimo, dopo il progetto di Changemaker, hanno aperto questo nuovo hangar, dove appunto ci sono, dove adesso siamo noi, perché noi ci hanno spostato di qua, insieme a un bar. E la cosa bella di vivere in uno spazio come questo, che è stato il motivo principale per cui io mi sono dovuta trasferire, ahimè, da Imola a Milano, è perché tutti i giorni vivi in un ambiente che ti da stimoli. Allora capisco quando Luigi prima dice, cioè dipende tantissimo dove sei, cioè l'influenza che hai tutti i giorni, gli stimoli, non so per dire progetto Changemaker, che è venuto qui dentro, ne parlavamo anche ieri, tutti i giorni c'era fondatore di Gio Prapito, pugliese, no? fondatore di Tiscali, e il giorno dopo c'era un'altra start-up, e il giorno dopo c'era no? E sono tutte informazioni che piano piano inizio a mettere insieme, e dici ma che cosa mi può servire? Posso avere contatto? Posso collaborare con loro? Posso, posso, posso. Piano piano questa cosa ovviamente fa crescere. Quello che è il tema finale con cui vorrei praticamente chiudere è il tema finanziamenti. Cioè noi siamo fatti un mazzo così, spendendo i nostri soldi, per fortuna che sia io e Andrea avevamo lavorato cinque anni prima, cioè per cinque anni prima, e guadagnato poi i soldi per permetterci di dire, va bene, investiamo su Impossible Living, inventiamoci questa cosa. Ovviamente fare un'azienda come Impossible Living, che è una start-up web, è molto diversa di fare un'azienda come può essere produrre macchine, perché il costo iniziale è praticamente pari a zero, compri il dominio, spendi nove euro al mese, cioè ovviamente l'altro problema è però dopo due anni che non guadagno una lira e spendi solo, insomma non ci fai più, inizia ad essere un po' problematico. Quindi si inizia tutto l'iter della partecipazione ai bandi, per fortuna dopo aver fatto una decina di bandi, abbiamo vinto il bando spinner per l'Emilia Romagna, che ci ha dato 35.000 euro, metta me e metta Andrea, più delle consulenze, più per dire ci hanno pagato il viaggio a San Francisco, che ci hanno permesso, anzi ci permettono di arrivare a qui fino a novembre. Cosa succederà dopo? un grande punto interrogativo e staremo a vedere. Per concludere, quello che secondo me è il motivo per cui stiamo qui oggi, cioè non è il fatto che io vi racconti che cosa faccio, ma il fatto che dopo ci confrontiamo tutti e capiamo come poter interagire, è sempre, per il mio modesto parere, l'unione fa la forza. Cioè l'impegno in Possible Living è sempre stato quello di creare una cazzo community uniti su questo tema per andare a rompere le scatele dal comune allo Stato al Parlamento europeo e dire siamo in mille, vogliamo fare qualcosa. Se siamo da soli come in Possible Living non ce la faremo mai. Se siamo due, tre, cinque, dieci e noi ne conosciamo veramente tanti perché adesso abbiamo detto 60 riattivatori in Italia che sono quelli che conosciamo personalmente, però ce ne sono molti di più che non conosciamo. Allora cercare un punto dove ci si incontra tutti, si uniscono tutte le forze e si arriva magari a essere architetti di nuovo per andare a ristrutturare questi veletti spazi abbandonati che è la missione più o meno di tutti noi perché siamo quasi tutti architetti qua, no? Cioè il sogno è riuscire a prendere il rudere, trasformarlo e farci il progetto sopra comunque alla fine, no? La missione secondo me è quella di riuscire a unirri puntini e andare un po', è il motivo anche per cui Alessandro ci ha mettato qua, insieme a fare questa cosa. Quindi sollecito. Grazie. 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 Grazie.